Una passeggiata nel quartiere della Pignasecca, un mercatino per l'autonomia di Napoli. Possiamo trovare di tutto. Innanzitutto non mancano ovviamente le pescherie. Questa è la pescheria che ha lotto il mio delle piante di Napoli. Piazza della Pignasecca. Un altro pesci venito. Questa è la piazza della Pignasecca. Tremorie. Due turisti che stanno avanzando. L'edificio Coppola dal 1947. Mi sembra. La Pugitoria di Fiorenzano. Attivendolo. Questo qua. Questa. Anche le parecchielle. Spina. Un altro negozio. Pizzo storico. Articoli casalenghi. Pizzeria 22. Giussi. Calzolaio. Pizzeria 22. Pizza buonissima. Pizzeria 24. Al Dio P兩. Ora. La Pugitoria theirchietta la Pugitoria. Questa. Pugitoria 23. Prevento. Pugitoria 23. Pugitoria 24. rore 24. Perfugitoria 25. Pugitoria 25. dasi. Don Petruccio. Pugitoria 23. Da tanti anni ero piccolissima io, sto per uscire dalla pigna secca, tra poco imboccherò via Toledo. Grazie per la visione!